È una storia intanto di un ragazzo coraggioso, perché trovarsi una situazione del genere e fare quello che ha fatto serve coraggio, serve sangue freddo e poi penso sia un bel esempio per tutti i ragazzi italiani. Spesso noi sentiamo notizie purtroppo di una gioventù che non si comporta sempre bene, questo invece è sicuramente un esempio di larga parte della gioventù, in questo caso veronese ma italiana, che è una gioventù che secondo me potrà prendere un giorno le redini di questo paese in maniera anche migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Quindi è giusto valorizzare le belle storie per far sentire a tutti che ci sono bravi ragazzi in giro che possono aiutare il prossimo. Stavo andando in bicicletta verso il campetto con i miei amici come tutte le domeniche, anche questa, e ho sentito una donna che da lontana continuava a urlare, inizia un po' a correre per vedere cosa è successo e quando mi fermo lì davanti guardo a destra e a sinistra e sento che dice che suo marito aveva fatto un infarto. Allora butto giù la bici e anche lo zaino col pallone e vado da lei a vedere cosa è successo. Suo marito appunto aveva fatto un infarto e allora decido di comunque prendere in mano la situazione. Lei aveva già chiamato il 118 però era in shock quindi non riusciva più a parlare e allora ho parlato con il operatore 118 e gli ho detto dove ci trovavamo quindi alla decima ecco a Colognola ai Colli e stava arrivando l'ambulanza ma intanto lui mi aveva chiesto se potevo fare il massaggio cardiaco al signore e ho detto me la sentivo comunque. Allora l'ho fatto per 15-18 minuti ecco, poi è arrivata l'ambulanza e anche l'elicottero e poi il carabiniere sono andato via a giocare.